Ancora sanità, ma ora con i progressi che la medicina fa a Padova, ha sportati contemporaneamente ad una paziente ultraottantenne, due metastasi a fegato e al polmone senza ricorrere ad intervento chirurgico e due giorni dopo la donna è stata dimessa. Antonello Profita. È una procedura che è stata eseguita su due organi contemporaneamente, quindi a livello epatico e a livello polmonare nella medesima seduta. Si chiama tecnica di termoablazione con microonde e consente di distruggere le cellule tumorali senza intervento chirurgico. Ad eseguirla due radiologi interventisti. Una procedura di radiologia interventistica che consiste nell'inserimento di, in questo caso, due aghi, simultaneamente trattando attraverso la cute, è stato inserito dapprima un ago che è poco di un calibro che si aggira intorno al millimetro e mezzo, quindi molto sottile. Dapprima è stato trattato il fegato, quindi è stata raggiunta la lesione epatica attraverso una guida ecografica. Successivamente, attraverso la TAC, è stata centrata la lesione polmonare. Nella prima parte della procedura la paziente è stata sedata in modo più profondo dall'anestesista, affinché non sentisse dolore a livello epatico. Nella seconda parte, in cui doveva collaborare con Respiro per permettere a noi radiologi interventisti di centrare bene il nodulo polmonare, invece abbiamo chiesto all'anestesista di fare una sedazione più superficiale e ciò ha permesso di centrare in modo perfetto il nodulo polmonare da bruciare. Dopo 48 ore la paziente, 83 anni, è stata dimessa e domenica festeggiato con una grigliata insieme ai familiari. La prospettiva futura? Gli scenari sono l'applicazione di questa tecnica in modo più esteso a livello epatico e anche in organi non consueti come per esempio il rene e il polmone.